Se vi dico genere fantasy, a che pensate? Elfi? Folletti? Fate? No, il ponte sullo stretto, il miraggio, il sogno erotico e proibito della politica, che come ogni leggenda che si rispetti mischia elementi reali a quelli di fantasia, considerazioni pratiche a quelle ideologiche, ingegneria a utopia. Ma adesso no, non più, perché finalmente il decreto sul ponte è arrivato alla camera. Un tema che è diventato politico per l'Italia da oltre un secolo, ma che in realtà è anche storico. Se ne parla sì dalla seconda guerra punica, giusto per farvi capì la concretezza del tema. Roba mitologica praticamente, tipo Arca de Noè, ne parla Strabone, ne parla Plinio il Vecchio, mettendoli in relazione appunto alla seconda guerra punica, quando gli eserciti del console Lucio Cecilio Metello sconfissero con l'astuzia le truppe e gli elefanti da guerra del generale Asdrubale. L'assuntone brevissimo della battaglia. Per oltre un anno i romani evitano lo scontro in campo aperto contro Asdrubale, perché quello ci aveva gli elefanti. Una macchina da guerra terribile che i romani avevano imparato a conoscere già da tempo. Dalla battaglia di Araclea contro Pirrore dell'Epiro, lungo tutta la prima guerra punica, fino appunto alla battaglia di Palermo. Si arroccarono quindi nella città di Palermo per dare l'impressione al nemico di non essere pronti ad affrontarlo. Nel frattempo Asdrubale che conquistava senza incontrare resistenza le città intorno a Palermo cominciò a pensare che la capitolazione dei romani fosse soltanto una questione di tempo. Quindi a un certo punto decide di assediare la città, convinto nella vittoria. Ma quando Asdrubale si avvicina alle mura della città, fanti leggeri e arcieri escono allo scoperto. Cominciano a colpire gli elefanti alla pancia e alle zampe. E quindi gli elefanti cominciano ad andare fuori controllo, ignorano i comandi, calpestano i soldati, insomma gettano scompiglio tra le forze cartaginesi. La mastodontica arma da guerra dei cartaginesi dimostra in realtà tutta la sua fragilità. Gli elefanti quindi diventano il simbolo di quella battaglia e di quella vittoria. Diventano bottino di guerra e il desiderio è chiaramente quello di portarli a Roma come simbolo di trionfo. Nasce così l'urgenza di costruire un ponte che collegasse la Sicilia alla Calabria. Le fonti ricordano che venne utilizzato un metodo già noto presso i romani con botti vuote come galleggianti per creare una lunghissima passerella di legno. Un'opera di ingegneria enorme per l'epoca di cui infatti ancora oggi non abbiamo propriamente certezza che venne davvero realizzata. Non solo perché le nostre fonti Strabone e Plinio il Vecchio sono vissuti secoli dopo questi eventi ma anche perché mancano attestazioni archeologiche non ci sono quindi elementi né per confermare né per smentire. Letteralmente da quel momento in poi cioè fino ad oggi questa chimera edilizia è diventata il sogno erotico della politica. Di tutta la politica. Una sorta di medaglia che ognuno ha la volontà di appuntarsi al petto. Una specie de sacro gral de tutti i partiti politici. Siete pronti? Perché da qui in poi è una bella carrellata politica. E andiamo. Ne parlava Mussolini ma la cosa non è mai uscita dallo slogan per prendere una connotazione effettiva. Serviva a creare il mito della grandezza d'Italia dopo la vittoria che avremmo sicuramente raggiunto e sappiamo tutti come è andata a finire. Ma è solo nel 1969 che cominciano i veri e propri studi sulla fattibilità dell'opera. È solo nel 1981 che questi studi di fattibilità portano alla soluzione del ponte accampata unica. Il governo a quell'epoca è democristiano e con Arnaldo Forlani si crea lo stretto di Messina S.P.A. una società concessionaria per la realizzazione del ponte. A metà degli anni 80 si respira il vento della possibilità. Nel 1982 Claudio Signorile, ministro degli interventi straordinari del Mezzogiorno, dice che si farà e in tempi brevi. Gli fa eco anche Bettino Craxi che non ha dubbi che nel 1998 il ponte sarà già a disposizione degli italiani. Sembrava però aver capito già tutto il numero 1401 di Topolino dove Paperon de Paperoni campeggiava sì sulla copertina celebrando il ponte sullo stretto. All'interno del fumetto però Paperon de Paperoni sfornava calcoli con il suo computerone per cercare il progetto più affidabile di costruzione. Progetto che però poi gli veniva sabotato dal perfido rockerdac che costruiva il ponte poi al posto suo. Riletto ora sembra quasi profetico. L'ambizione della costruzione e la dispersione del sogno paperoniano hanno trovato poi infatti conferma anche nella realtà. A un certo punto però incombe Tangentopoli e quella no, non è un fumetto. La crisi finanziaria è forte, la gente non ha più fiducia nella politica, quindi no, decisamente non è il momento del ponte. Portarlo avanti significherebbe sfidare la ferocia dell'opinione pubblica, altro che il lancio delle monetine. Molto meglio metterlo nel cassetto. Ma nel 2001 c'è qualcuno che lo tira fuori dal cassetto e in realtà sono due i personaggi, Rutelli e Berlusconi. Sto benedetto ponte lo vogliono fare tutti e due. Rimane solo da capire chi la spunterà, cioè chi sarà così bravo a scipparlo all'avversario e farne cavallo di battaglia per la propria campagna elettorale. E a spuntarla sarà Berlusconi. Senza alcun'ombra di dubbio da quel momento il tema del ponte sullo stretto diventerà appannaggio del centrodestra e troverà il solito gioco delle parti. La sinistra si arroccherà nell'opposizione al ponte, ma solo perché quando l'uva è acerba significa che la volpe non c'è arrivata. Durante gli anni di Berlusconi si respira di nuovo quel clima della metà degli anni 80. Il ponte si fa. Orgoglio, commozione, i proclami a porta a porta. Viene addirittura avviato il bando, ma poi subentrano nuove elezioni, nuovo governo, vince il centrosinistra, ormai il ponte è al centro di un dibattito politico e quindi di nuovo tutto nel cassetto. Nel 2009 a ritorno a Berlusconi ritira fuori il ponte, si riprende da dove si era stato interrotti col bando, si seleziona la società in preggilo, ma a fare lo sgambetto stavolta è l'Unione Europea e non include il progetto tra i fondi comunitari. Cade Berlusconi su Bentramonti e Monti del ponte non ne vuole manco sentir parlare. La società stretto di Messina e S.P.A. viene messa in liquidazione ed è game over, fino a che non arriva lui. Matteo Renzi. E se riparte? Matteo Renzi cerca anche di ribaltare le sorti ideologiche del ponte, cerca di riportare il ponte tra le frecce all'arco della sinistra, semmai si è potuta definire sinistra quella di Renzi, intendiamoci. La rifacce di nuovo si fa, si fa e alla fine manco con Renzi si fa. E' finita qui? No, il testimone passa a Giuseppe Conte. Si ricomincia a parlare delle opzioni di costruzione, dalla campata unica fino al tunnel sottomarino. Verebbe da ride ma appare veramente il fumetto di Topolino. Alla fine passa in mano a Draghi. Pare l'anello lasciato in eredità dalla Trisavora. Tutti lo vogliono ma nessuno se lo mette. Intanto sta favoletta del ponte ci è costata finora tra progetti, soldi da risarcire ai vincitori del bando eccetera eccetera, più di un miliardo dal 1971 ad oggi. E non avemo messo manco una vite. Mazza quanto costa la fantasia, ma stavolta no rega, stavolta è diverso, stavolta ci siamo eh. Guardate, guardate quanto ne è fiero. Italiani, non disperate, è fatta. Ci sarebbe giusto un problemino piccolo, che il progetto è quello del 2012 senza che ci sia stato nessun tipo di aggiornamento sul piano. I costi, con rincaro delle materie prime, sono lievitati dagli 8 miliardi del 2012 ai quasi 13,5 miliardi di oggi. E si pensa pure di più. Salvini ci dice che useremo l'acciaio dell'ex Silva così da garantire anni di commesse piene all'acciaieria. Eeeh, grande festa! Bello, bello tutto eh! Bella può essere lì, bella armatio, bella cassa banca, bello, bello, bello tutto, bravo! Ma manca l'aggiornamento dell'impatto ambientale, manca il progetto aggiornato, non si è capito bene da dove prenderemo sti soldi. Insomma, o potremmo dire che in mano non c'hanno niente? Però in perfetto stile italiano di mettere il carro davanti ai buoi, si è partito già col finanziare la campagna pubblicitaria. 7 milioni di euro. Che poi, eh, per pubblicità e devi lasciar perdere, eh, sono bravissimi. Oh, open to meraviglia, non so se mi spiego. Molto apprezzata da Yongde, Doan Wan, Bin Chi Wong Bui, Na Jan, Tai Lai Do. Mica starete a pensare che sono account comprati? Che miscredenti! Ora, io non sono ingegnere, non sono un geologo, non lo posso dire se è fattibile o meno, non c'ho le competenze, però me ne vado per un'idea, eh. Forse, e dico forse, eh, prima di costruire sto ponte, non sarebbe meglio donare alla Calabria delle infrastrutture degne di tale nome? No, perché noi facciamo il ponte ultramoderno, ma solo per attraversare la Calabria ci mettiamo 12 ore. Ecco, vi faccio vedere sulla mappa dove si fermano i treni ad alta velocità. Ecco, l'alta velocità è quella linea rossa. Da Salerno ascende, te muovi col cavallo. Il regionale che collega Catania a Palermo ci mette 6 ore. Ci sono collegamenti diretti alle città come tra Trapani e Palermo chiuse da 10 anni, conti ferroviari crollati tra Caltagirone e Gela e molto, molto di più. In pratica da Roma ascende, è quasi un viaggio da misericordia. 55 anni per mettere apposta a Salerno-Reggio Calabria. C'è gente partita vent'anni fa che ci si è persa dentro, non è mai tornata indietro, desaparecidos sulla via di Trapani. Se da Napoli vuoi raggiungere una delle periferie c'è sta la Circon Vesuviana. Per chi conosce sa di che parlo. Vesuviana state of mind, guida semiseria al treno più pazzo del mondo. Se da Roma scende, devi prendere un regionale, sfiga vuole che fanno 4 gocce di pioggia, sei finito. 400 minuti di ritardo del treno e t'hanno pure trattato. Quindi io mi domando, ma è possibile che le priorità de sto paese non siano mai a focus? Possibile che volemmo sempre core prima di imparare a camminare, col risultato che poi se rompemo tutti i denti davanti? Se potranno fare cose con un po' di criterio, una volta, una volta sola. Ma perché? Ma che ve costa? Perché ogni cosa si deve ridurre una barzelletta? Altro che fumetto di Topolino, almeno quello una risata ce la strappava. Qui invece pare che c'è rimasto solo da piagne. Se ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube e agli altri indirizzi social che trovi qui. Se puoi sostenere il progetto Paboli, un semplice caffè, una piccola donazione all'impebol che trovi qui sotto. Ciao e a presto!